Musica Però sono molto felice perché oggi c'è il sole e quindi potrò comunque farvi vedere altri posti fantastici e ora ci stiamo dirigendo a Coven Gardens Musica Questo è un negozio dell'Apple enorme, davvero enorme Musica Musica E prima di entrare qui detto che cosa hai mangiato? Musica Il prosciutto di Parma giusto per non farmi la carità che poi si trova il prosciutto di Parma quello proprio che trovi in Italia Musica Musica Questo è specializzato per l'antichità, infatti a me piace tantissimo. Questo è il mio negozio preferito di tè, Wittor, è veramente fighissimo. Questo è il mio negozio preferito di tè, Wittor. Questo è il mio negozio preferito di tè, Wittor. Questo è il mio negozio preferito di tè, Wittor. Dove fanno comunque dei piatti tipici. Ci tenevo a farvi vedere questo posto perché venire qua, fare appunto questa passeggiata e ritrovarsi con questo panorama. E oggi è anche una bella giornata e appunto di queste belle giornate bisogna assolutamente approfittarne. Ma di che anno è il Fond des Arts? Beh, comunque per venire qua vi consiglio assolutamente di scendere a Southwark e poi magari vi fate tutte le passeggiate perché veramente merita. Questo posto è bellissimo in realtà anche d'estate perché appunto ci sono questi tavolini dove comunque potete sedere a prendere qualcosa. E poi qui sotto c'è anche la spiaggia che comunque è molto carina. Grazie a tutti. Ora che siamo qui, che stiamo aspettando i nostri palini, volevo raccontarvi cosa faremo dopo. Allora, allora dopo andiamo al Big Bang. Adesso facciamo una lepre passeggiata. Dopo andiamo a scattare qualche foto al Big Bang. E dopodiché facciamo un altro mini giro a Kander, vedo che c'è il sole, è una tua fortuna insomma. Anche perché in questi giorni abbiamo veramente preso pochissimo sole. Questo è quello che abbiamo appena ordinato. Abbiamo un mega panino con dentro del pesce, un po' di patatine e della salsa non identificata. Bene, dopo aver scorcellato l'oliva rosimile adesso ci accendiamo a prendere due bei caffè. Adesso facciamo un giro per fare qualche foto al Big Bang. E dopo andiamo forse a fare un giratto a Kander, approfittando appunto del sole. E poi andiamo. Non abbiamo tantissimo tempo ma quello che abbiamo ovviamente lo vogliamo sfruttare al massimo. E ho notato che comunque di lunedì non ci sono tantissime persone. Ciao. Buon appetito. Chi viene qua adesso? Sì, non è proprio il top. Per vedere la prima volta secondo me no. È proprio in passaggio. Non so, poverino, 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 poverino. Non so, poverino, poverino, poverino. Non so, poverino, 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 Imagine if all the boys in jail Could get out now together What do you think they would say to I and I While we were seeing Clubhouse Daddy was a bad club He never hurt nobody He deserved to live that way He loved to steal your money Some is rich, some is poor That's the way the world is I don't believe in lying back Saying I'm glad your love is I can't get up, don't hit a black box of fun I'm going to get a black box of fun And I'm fucking bitch and you're just a fool Daddy was a bad club, you're not a bad club I can't get a shot Run, 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 run Grazie a tutti Grazie a tutti